Ritorna sabato 13 aprile a Castellabate, operazione spiagge pulite. La manifestazione promossa dall'assessorato all'ambiente dedicata alla pulizia delle spiagge è effettuata dagli alunni delle scuole, dagli operai della SARIM, dalle associazioni, dagli amministratori e volontari del comune e la partecipazione di Lega Ambiente Campania. Lo start è previsto alle ore 9 sul lungomare Perrotti a Santa Maria con in prima fila il sindaco Costabile Spinelli che in collaborazione con l'assessore al turismo Luisa Maiuri e l'assessore all'ambiente Domenico Di Luccia hanno voluto fortemente l'iniziativa, un'occasione per raccogliere i materiali depositati dalle mareggiate sulla spiaggia o da qualche maleducato, un motivo per sensibilizzare l'opinione pubblica e far propria la consapevolezza che il rispetto dell'ambiente richiede la collaborazione di tutti. Appuntamento dunque per il 13 aprile a Castellabate.